Il Polo è regionale e vuole essere un punto di riferimento per organizzare, pianificare, strategicamente coinvolgere tutti gli operatori del settore turismo della Regione Abruzzo e nello stesso tempo veicolare attraverso la formazione permanente i nostri ragazzi, ma i ragazzi di tutte le realtà scolastiche attinenti al turismo in maniera poi da riuscire a formare nel miglior modo possibile la popolazione scolastica e non solo, anche soggetti che non sono più in obbligo scolastico comunque all'interno della struttura scolastica ma che già si trovano nel mondo del lavoro e soprattutto sfruttare le opportunità scuola-lavoro e avvicinare il mondo dell'imprenditoria e non solo, ma il mondo del lavoro specifico nel settore turistico al mondo della scuola.